E oggi Padova e Treviso sono osservate speciali dalle forze dell'ordine per prevenire eventuali tensioni tra bande di ragazzi come è avvenuto nel weekend scorso. Su questo in particolare il nuovo prefetto di Treviso non si pronuncia ancora ma affronta altri temi. Il prefetto è Angelo Sidoti, siciliano di Taormina. Era già stato in Veneto come vice prefetto a Verona. Tra i primi impegni la visita al presidente della provincia Stefano Marconi per iniziare a conoscere il territorio. L'ha incontrato Maura Bertanzon. Adesso guarderò, approfondirò i vari fenomeni. In questo momento storico si diceva che dobbiamo dare la priorità innanzitutto alla gestione delle esigenze legate alla pandemia. E poi per me è fondamentale sempre un occhio all'ordine pubblico. La pandemia ma anche le infiltrazioni mafiose, anche l'immigrazione è stato un grosso problema a fasi alterne qui. Sì, sono consapevole di questo. Per quanto riguarda le infiltrazioni criminali è una provincia ricca, prospera, quindi dove c'è una forte produzione. Ci sono pericoli di infiltrazione e dobbiamo tenere d'occhio anche questo aspetto. L'invito agli operatori economici è quello di non fidarsi di chi promette vantaggi facili. Dal punto di vista dell'immigrazione abbiamo avuto cospicui arrivi in tutte le province d'Italia negli anni scorsi di migranti da ospitare. Le prefetture hanno fatto la loro parte. Adesso viviamo un momento un pochino più tranquillo e quel che si dovrà fare verrà fatto sempre. Ha fatto un giro in città già, le piace? Molto. 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 Molto.